Che cosa porterà in scena il faro qui a Treponti? Dunque il faro porterà Se naviga da shot, sarebbe una commedia messa e scritta con i problemati, con i problemi che ci sono oggigiorno. C'è il tema marinaro, si naviga, perché questo tema? Sì, perché se naviga da shot, perché tutti navigano col computer, però non c'è l'acqua, quindi naviga da shot. Ecco, quindi... Il mare, se naviga da shot. Quindi qualcosa che va in rete? È certo, è certo. E se va in rete, naviga, però non c'è nel pesce e nell'acqua. C'è solo sta gran foga di telefonini oppure di computer, quindi non si parla, si parla più a nessuno, ma si parla tramite computer, facebook, tutte le robe che succedono.